L'economia europea tenta di riassestarsi ma non è facile. Molti negozi, ristoranti e attività commerciali non hanno riaperto dopo la quarantena e molti imprenditori hanno dovuto licenziare i dipendenti per far fronte alle ristrettezze economiche. La recessione economica causata dalla pandemia non ha tardato ad avere effetti sulla disoccupazione che nell'area euro a luglio è cresciuta dal 7,7 al 7,9 per cento in un mese. Secondo il rapporto di Eurostat cresce anche la disoccupazione giovanile che dal 17 per cento è invece cresciuta fino al 17,3 per cento nello stesso periodo. Sulla carta i numeri non sembrano così male, vero? Eppure queste cifre mascherano la vera realtà. In molti paesi i governi hanno impedito la possibilità di effettuare licenziamenti ma ora che queste restrizioni vengono meno probabilmente l'impatto della crisi si rivelerà nei mesi a venire. Ci sono dei dati che non compaiono in questo rapporto e che riguardano coloro che si trovano in una situazione di disoccupazione temporanea, coloro che hanno contratti di lavoro a tempo determinato o che usufruiscono di programmi di sostegno a reddito o di sostegno all'occupazione a livello nazionale. Ci sono 45 milioni di persone che si trovano in questa situazione. L'emergenza è evitare che mentre si aspettano i soldi del Recovery Fund queste persone diventino disoccupate in via permanente. Sarebbe un disastro. Gli eurodeputati dovrebbero iniziare presto a discutere del nuovo bilancio europeo ma le discussioni potrebbero essere lunghe e molti in Europa temono che il vecchio continente debba affrontare un altro decennio di disoccupazione.